Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi e ciao a tutti ragazzi, prima di questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui questo nuovo recupero che ho fatto in Blu-ray e sto parlando del primo film di Matrix con Kenny Reeves e Laurence Fishburne ecco qua la copertina ho preso tutta la trilogia in Blu-ray, manca solo l'ultimo Matrix Resurrection quello ce l'ho in DVD però comunque questa è la copertina qui abbiamo il laterale Matrix qui abbiamo il retro varie informazioni sul formato i contenuti speciali, eccoli qua ecco qua i contenuti speciali ragazzi che potete mettere in pausa il video per li guardate varie informazioni e questo è il retro andiamo a vedere adesso l'interno del disco tutto blu con un semplice disco equilaterale Matrix e niente ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivete al canale come sempre, ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao ragazzi ragazzi, se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente, detto questo qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito le ho ordinato e vi arrivo a casa e niente, ciao a tutti belli grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti